Il voto complessivo assegnato a questo articolo di B, prime è di 8.8 su 10. Ha per il momento il miglior rapporto qualità prezzo. Le caratteristiche principali sono. Ottimo rapporto qualità prezzo. Comodo. Stile. Impermeabile. Calore. Robustezza. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di LifeWii è di 9.4 voti su 10. Risulta al momento essere il più venduto. Le sue qualità sono. Facile da pulire. Impermeabile. Comodo. Stile. Ottimo rapporto qualità prezzo. Robustezza. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. Coleman ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9 su 10. Per questa categoria, risulta al momento essere il più votato con 5.875 valutazioni globali. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Robustezza. Ottimo rapporto qualità prezzo. Comodo. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Questo prodotto realizzato da Igloo ha conquistato una votazione di 9.2 su 10 punti totali. Al momento è il più esclusivo di questa selezione. Si tratta di una delle opzioni di acquisto più diffuse e apprezzate dagli utenti, come testimoniano le recensioni più che positive da parte di chi l'ha provata. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Il voto complessivo di questo articolo di truque è di 9.2 su 10. Risulta essere la nostra scelta migliore. I punti di forza sono robustezza, comodo, impermeabile. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. La valutazione di questo prodotto di Turit è di 9.4 voti su 10. Questo è il migliore di questa selezione. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Robustezza, stile, comodo. In basso, nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto. L'Aifui ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 9.4 su un totale di 10 punti. Risulta essere il prodotto più regalato. I suoi punti di forza sono. Comodo, facile da pulire, impermeabile, stile, ottimo rapporto qualità prezzo. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video.